Buongiorno, oggi è venerdì, ci troviamo al nuovo di via Olimpia di Castelfrentano, ultima seduta di allenamento di questa settimana, dei ragazzi primi calci di mister Gabriele Di Felice, il nostro coordinatore tecnico, qua c'è solo una minima parte, un gruppo di ragazzini, in quanto gli altri stanno a Montemarconi per un'esibizione programmata dalla federazione gioco calcio, sono le 15.30 circa, questo è il gruppo di primi calci, di mister Gabriele, ne contiamo, ne sono 12 circa questo gruppo, mentre i rimanenti ragazzi sono andati al comunale di Montemarconi per un'esibizione programmata con i loro coetanei della Val di Sangro. Il mister adesso ha interrotto il gioco per far fare gli esecisi di respirazione ai ragazzi, vediamo tutti in divisa societaria, all'impuori di uno con la divisa della Juventus, in quanto c'è la divisa da lavare, può capitare che non si asciughi i capi di vestiari, in quanto c'hanno solo una divisa di allenamento, che consiste nella classica t-shirt, nero-azzurra e pantaloncini. Comunque stanno tutti con la loro divisa, si vede solo un ragazzino calzettone bianchi, giusto casual, per differenziarsi, c'è l'altro ragazzino che ho detto poc'anzi che c'è la divisa a lavare, se no tutti hanno ricevuto il kit societario, fino agli esordienti, il classico colore nero-azzurro. Mentre per i giovanissimi allievi e prima squadra è giallo-blu. A questo lato c'è il gruppo di mister Gabriele, all'altro lato ci dovrebbe essere il gruppo di mister Giulio, dovrebbero essere i pulcini, non vorrei sbagliarmi. Lo stadio è stato suddiviso in tante porzioni, proprio per far giocare contemporaneamente più gruppi. Vedo da lontano con la tuta giallo-blu dovrebbe essere Simone Giordano, mister Simone Giordano, che è anche un calciatore della prima squadra, militante in seconda categoria. Funge anche da mister per di più piccoli. Questo è il gruppo, no non è mister Giulio ma adesso lo sto vedendo, fammi vedere bene. Siete pulcini? Bravi! Effettivamente sono i pulcini di mister... c'è Nicola, Nicola di... Lascialo la, lascialo un bacio alla panchina. C'è mister Roberto Berna, in questo gruppo.